nome francesco de pasquale michele palma età 55 47 anni famiglia moglie e figlio moglie e due figli sport praticato corsa di fondo anche se attualmente il fondo lo vedo sempre più lontano visto che il tempo a disposizione è sempre più poco surf da onda sci running nuoto calcetto tanti ma nessuno a livello agonistico professione sono un libero professionista un consulente informatico docente di scuola media attività lavorative pregresse sono un ex dipendente di banca sono stato assunto dall'università di genova come assistente bibliotecario ma ho rinunciato attualmente sono docente di scuola media di materia letteraria a 21 anni ho aperto la mia prima partita iva come libero professionista 23 anni ho aperto la mia prima impresa nel settore informatico dopodiché ho lavorato per software house grandi e piccole cosa ti piace della tua professione in realtà quando si entra in classe non si sa mai come andrà a finire nel senso che quello che si programma di fare non sempre anzi molto spesso non si riesce a fare mi piace il fatto che bisogna continuamente studiare cose nuove sia per affrontare problemi nuovi sia per studiare nuove tecnologie per risolvere questi problemi cosa non ti piace l'eccessiva burocratizzazione che sta sempre più procedendo spedita non mi piace il fatto che bisogna rimanere a lungo seduti un po come adesso cosa ti piace della sua professione credo che insegnare sia una cosa veramente bellissima la capacità di organizzare e centellinare tutte le procedure cosa significa per te fare politica fare politica nel senso etimologico occuparsi della propria città fare politica per me significa mettere a disposizione della propria comunità una parte del proprio tempo delle proprie energie da quando fai attivismo fondamentalmente dal 99 quando ho cominciato la mia attività nel comitato ss carrara dal 2006 come è iniziato a fine estate del 2006 ho incontrato due giovani per stata che mi hanno dato un volantino così ho scoperto che si stava attivando un gruppo di persone per fare attività su problemi locali al di fuori dei vincoli normali di partito così dopo qualche mese ho iniziato ad incontrarli e da lì è iniziato un percorso che sta continuando ancora adesso a dieci anni di distanza in un certo senso potrei dire quasi per caso mi sono trovato a occuparmi delle polveri in città provocate dal traffico dei camion del marmo e perché hai iniziato ho iniziato perché sentivo la necessità di fare qualcosa per la per il posto in cui vivo per la nostra comunità di cui anch'io ovviamente sono parte ho sentito quasi il dovere di iniziare a fare qualcosa per migliorare lo stato della nostra comunità perché quando ci si rende conto che non si può dormire e non si può respirare può dire che una città non è vivibile da qui il mio passaggio al movimento 5 stelle è stato quasi automatico come quando sei venuto in contatto con il movimento 5 stelle nella nello svolgimento dell'attività del comitato ss carrara poco dopo la nascita del gruppo meet up di carrara sono abbiamo iniziato a collaborare appunto sul tema delle polveri in realtà è il movimento 5 stelle che è venuto in contatto con me nel senso che il meet up nascono nel 2005 2006 il movimento 5 stelle arriva soltanto nel 2009 quando ci si è resi conto che non era sufficiente non si incideva abbastanza facendo politica soltanto dall'esterno delle istituzioni e quindi si è deciso di provare ad entrare dentro le istituzioni cosa ne pensi del gruppo di carrara beh non posso che pensare bene visto che ne faccio parte comunque al di là di questo è un gruppo molto motivato un gruppo solido un gruppo affiatato un gruppo che cresce in continuazione credo che sia un gruppo molto serio e preparato formato da persone con grandi capacità è un gruppo che anche tra gli altri tra gli attivisti gli altri gruppi a livello nazionale gode di grande stima non è un caso che da questo gruppo sono venuti fuori due senatrici e un candidato presidente della regione toscana cosa è per te il movimento 5 stelle è il riscatto del popolo italiano dopo decenni di politica che ha fossato questo paese il movimento 5 stelle è uno strumento che consente a cittadini liberi dai vincoli di partito di entrare fare politica nelle istituzioni cosa ti ha spinto a candidarti il fatto che non posso tirarmi indietro di fronte una situazione del genere la situazione che politica economica sociale visto che ad oggi sono consigliere di opposizione rinunciare a priori mi sembrava mi è sembrata una cosa non non adeguata cioè le sfide sono da accettare e quindi cogliamo un senso civico la consapevolezza che era necessario fare qualcosa in questo momento diciamo era una responsabilità che sentivo molto anche sulle mie spalle sentivo di poter ricoprire questo ruolo che il momento era giusto per poter apportare un cambiamento alla città sentivo di doverlo fare sostanzialmente davvero credi di poter risolvere i problemi del nostro territorio risolvere una parola grossa di sicuro si può dare un contributo forte significativo per avviare se non altro la risoluzione ci vorrà molto tempo problemi del nostro territorio sono alcuni di portata enorme non è possibile pensare che il giorno dopo le lezioni in un mese o anche in pochi mesi si possano risolvere questi problemi invertire la ruota subito è possibile farlo cosa lui che tu non hai il pizzetto un po di colore nei capelli sicuramente in cinque secondi dimmi cosa dovrebbe avere il futuro sindaco di carrara per ben governare una sola cosa non estente lettuale la capacità di ascolto la prima cosa che vorresti fare da sindaco il regolamento degli agri marmiferi o ex novo oppure modificare quello che eventualmente verrà approvato a fine consigliatura attuale perché non si può continuare ad oggi nel 2017 ancora parlare di un editto del 1751 è anacronistico modificare lo statuto comunale per dare più partecipazione proprio per evitare che diciamo l'amministrazione comunale sia così distaccata completamente distaccata dai suoi cittadini come è successo in questi ultimi anni ritengo che sia necessario riavvicinare tutti i cittadini alla politica credo che sia possibile farlo e che debba essere fatto per cercare di formare di riformare una comunità e l'ultima l'ultima è il bilancio del verde infine consigliatura è previsto che ogni sindaco presenti un bilancio del verde in adempimento alla lotta ai cambiamenti climatici penso che non finiranno mai le cose da fare questa città francamente non credo che sia possibile in un mandato risolvere tutti i problemi della città l'orizzonte che ci dobbiamo correre è molto 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 più largo cosa non vorresti assolutamente fare da sindaco cattedrali nel deserto purtroppo in questi anni abbiamo assistito a questo anche anche qua carrara hanno costruito delle cose perfettamente inutili un esempio per tutti il ponte della padula con gli ascensori che non sono mai entrati in funzione non vorrei mai dire non mi sento responsabile è vero che vuoi chiudere le cave beh sicuramente a una certa ora del pomeriggio quando finisce il lavoro è ora di chiudere i cavatori possano andare a casa a riposare e non effettuare straordinari a go go come purtroppo spesso accade no come no girano voci insistenti in tal senso sono voci che abbiamo provato a smentire in varie maniere in tutti i modi ma evidentemente a qualcuno fa comodo che continuano a girare queste voci è certo perché non sanno come difendere le loro posizioni in realtà sono posizioni inventate ad arte per denigrarci cosa ne pensi dell'ampliamento del porto considerando gli traffici attuali e quelli previsti nel futuro per il momento può stare tranquillamente così com'è nel futuro si vedrà per il momento può stare ampiamente così com'è penso che non sia pensabile di ampliarlo andando a erodere ulteriormente una zona costiera cosa ne pensi del waterfront waterfront versione 5 stelle è auspicabile non certo nella versione attuale versione 5 stelle è una versione ad uso dei cittadini non ad uso dell'industria credo che sia necessario farlo anche se per quanto i progetti che abbiamo visto fino adesso non convincono del tutto ci sono alcune cose che effettivamente non vanno bene se chiudi gli occhi e vedi carara tra dieci anni cosa vedi mi auguro di vedere una città che si è riposizionata a livello nazionale su quelle posizioni che le competono e che negli ultimi decenni le sono state negate vedo una città che dimostra che tremonte aveva torto e che di cultura invece si può vivere e mangiare e lavorare prima di concludere l'intervista dici il tuo slogan carara 5 stelle facciamo tornare carara una comunità puoi fare gli auguri per il nuovo anno ai nostri cittadini ai nostri cittadini auguro di tornare a rivedere le stelle citazione dantesca dante alighieri poeta nazionale auguro a tutti noi che il 2017 porti un cambiamento cambiamento per il meglio e che sia davvero un anno decisivo ora se vuoi puoi farli anche a lui un in bocca al lupo per il gobo nero ti auguro che il 2017 porti cambiamenti decisivi